Musica Hi people of YouTube Welcome back to a new episode of Saint Troc 4 A parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata Con il nostro salvataggio Della nostra Cosa stai facendo Shondi So che è colpa mia che ti sono passato accanto ma Comunque Della nostra carissima Shondi Merda Il passaggio da Playstation 3 a Playstation 4 Ha fatto dei danni E non l'abbiamo salvata solo da Zinia Che dà la sua prigione mentale Ma anche dalla sua altra metà La Saint Troc 2 Shondi E quello che faremo oggi invece Sarà Riavvicinarle Aiuta le Shondi a risolvere le loro problematiche Il posto più vicino E questo qua Tra l'altro ho potenziato il fucile disintegratore Gli ho dato questa skin che è Bellissima E purtroppo Quest'arma siccome è già abbastanza rotta di suo Che disintegra con un colpo Il massimo che puoi fare è velocizzarla È quello che ho fatto Puff Vediamo se riesco a prendere più persone con un colpo Ecco fatto Due in uno Anzi addirittura tre Ce n'era un terzo dietro Guarda Ecco fatto Un coniglio Non c'è più il coniglio Dicevamo Uh aspetta c'è Un audio di Shondi qua Credo sia là sopra Vabbè poi lo prendiamo Eh certo come no Guarda Ne sono sicuro Dai Shondis Salite su Sali su sta macchina Giustamente Mi sembra un buon piano The old Shondi Allora Madonna che Che bella che è st'arma È ucciso Oh allora aspetta Prima di tutto Fammi entrare nella macchina Voglio registrarmela Non peraltro No non me la fa registrare Che stronzi Sicuramente è perché È una macchina tipo evento E succede Solo in questa zona Ebbè Fantastico Ok perfetto Allora Andiamo Con la macchinina No Shondi Qui Eh va bene È uguale Dai Va bene così Vabbè Ma abbiamo un'auto Una gomma bucata Eh esatto Questo è vero Oh poverina A volte è difficile però Cioè allora Da una parte capisco Quello che sta cercando Di dire È la Shondi Fattona Perché molto spesso Ti vedi al passato E dici Wow ero Veramente una persona Molto Diversa E magari anche Una cosa buona Il problema è Quando ti guardi dal futuro E pensi No Forse non era una cosa Così buona una volta Questo fucile È una meraviglia Santo Dio Ecco fatto Dove sei? Aspetta Giusto perché Sono stronzo C'è ragione C'è ragione Speriamo dai Forse no eh O forse sì Chi lo sa Forse fa davvero Ecco esatto Stavo giusto per dire Forse ci mette davvero Un attimo A fare effetto Wow Ma perché Voi potete fare La Dokken E io no Cioè io ho il massimo Che c'ho Stai scarica Mertosa Io voglio la Dokken Eh già Quanta gioia Giustamente Oh scusami Ma io A chi devo seguire Scusatemi Vabbè io seguo La prima che capita Dai Voi due tornate qui Però Intanto non si muovono Mi sa che per colpa mia Una delle due Sei un attimo Buggata all'indietro Quindi Ecco appunto Magari è la colpa mia Vabbè io seguo Quella che va più veloce Per ora Beh sì Ti sto dietro E in realtà Anche un po' davanti Siete voi che Vi impappinate in punti Totalmente a caso Mica io Forza dai Santo Dio Va bene che siete veloci Tutto il resto però Muoversi un po' ragazze Eh Che cavolo Una va avanti Una va a caso Voglio dire A chi devo seguire Guarda Puoi essere più veloce di me Quanto vuoi Basta che vi muovete Me ne frega niente Chi delle due è la più veloce Sincero E dai Smettetela Oh Già Giusto Figa Boia Uh meglio Meglio usare armi più veloci qua Meglio di andare Di armi più veloci qua Visto che siamo tutti fatti Non ho capito Ah ok Giusto le guardie Ho capito di struggire le macchine Ed ecco fatto Vieni qua Dio mio Mettiamo un elemento Che non uso spesso Ecco fatto Alla fine L'elemento esplosivo Non è niente di più Che la versione Ancora più potente Della Della versione Del fuoco Dai Su Esci fuori da lì Stronzo Ma vai via Ahia che dolore Esatto Tanto noi siamo abbastanza potenti A poterli fare fuori Quindi Voglio dire Evviva me Allora calmi tutti Fermi Usiamo Dov'è Vai via Perché ho il coso esplosivo Io Ascolta Ah beh giusto Forse Vediamo se così funziona Mmm Dove sei? Dove sei? Nooo Ti abbiamo fermato Come al solito Quindi Direi che muori tu Purello Pensavo di poterci fermare Beh Sono contento che voi siete contente Psicosomatico Psicosomatico Denaro 2000 dollari Esperienza Abbastanza salita di livello Perfetto Super amico Shondi E Super amico Shondi Sballona E' super Sballata Amico Veteran Sì Amico Certo Quindi signori Vi ringrazio tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Losciatri Ciao a tutti Noi ci vediamo Iscriviti Sombra